Per l'elezione del Presidente della Repubblica si passa da noi. Dall'Assemblea della Lega Puglia a Bari, Matteo Salvini invia un messaggio al centro-sinistra in vista della partita Quirinalizia. Per la prima volta il centro-destra ha le carte giuste per essere protagonista della scelta, afferma il segretario del Carroccio sottolineando che stavolta i numeri sono in mano nostra. Una posizione di forza che tuttavia non vieta di aprire al dialogo con gli avversari. E quindi, per arrivare a un Presidente scelto in condivisione, Salvini annuncia che da lunedì alzerà il telefono per sentire il leader di partito. Chiamerò tutti i segretari, dal primo all'ultimo, dal più piccolo al più grande. Sediamoci intorno a un tavolo e parliamone, è la proposta che però include una postilla. Se qualcuno ha la spocchia di sedersi e dire che non può essere di centro-destra, sovranista, populista, dico, il Presidente della Repubblica e di tutti, non c'è un articolo 1 bis della Costituzione che dice che il PD ha diritto in perituro di scelta. Di certo Dem, 5 Stelle e l'EU non sposeranno mai la candidatura di Silvio Berlusconi, lanciato apertamente nella corsa al Colle da Salvini alla Kermessa 3 UDFD. Dallo stesso palco nel centro di Roma, però, anche Matteo Renzi riconosce al centro-destra il ruolo di mazziere. Oggi a più o meno il 45% dei grandi elettori spiega il leader d'Italia Viva. Il punto è se il centro-destra prende una iniziativa insieme o se non lo fa. Il ruolo di Kingmaker stavolta tocca a loro. Insomma per Renzi le strade sono due, o la destra si incarica di fare una proposta complessiva o, se non lo fa, bisognerà scegliere collettivamente un arbitro, per i prossimi sette anni. E a chi gli chiede dell'eventualità che possa essere l'attuale premier, risponde, ringraziamo il cielo che abbiamo uno come Mario Draghi che possiamo mettere in due ruoli diversi. Ma fino al 15 gennaio ogni discussione è prematura.